Grazie a tutti. Siamo a Lecce nel cuore del barocco e abbiamo portato qui a Roma un piccolo saggio di come noi siamo abituati ad accogliere. Con la musica, le opere, manca solo la biblioteca e la sala di te che però sono presenti nel nostro spazio espositivo. Questo è un grandissimo allievo del Rubens, Van Thulden, è praticamente il trionfo di Perseo e Andromeda, ovvero l'amore che arresta il tempo, personificato da Kronos. Un omaggio alla città di Roma, pittore pugliese Francesco Saverio Altamura, firmato e datato a Altamura 1871, quindi realizzata per il decennale dell'Unità d'Italia. Qui siamo nei primissimi del XVIII secolo. Quindi 700? Sì. Bellissimo. Questo è un capriccio, è praticamente un'umanità priva di ogni preoccupazione sulle sponde del pevere. Grazie. 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 Grazie.